Un cordiale buongiorno a tutti. Dopodomani, venerdì 12 luglio, ancora condizioni di spiccata variabilità sull'Italia, però questa instabilità che ha caratterizzato il pomeriggio delle ultime giornate sarà meno diffusa e quindi anche i temporali saranno meno estesi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Anche l'immagine del satellite vedete che ci conferma quanto appena detto, vedete questa nuvolosità che è meno presente. Sarà soprattutto presente sulle Alpi e sulle Appennini con le modalità che andiamo a vedere proprio in serie di previsione. Nella giornata di venerdì condizioni di bel tempo come al solito al mattino, poi nel pomeriggio questi temporali che interesseranno soprattutto le Alpi ma saranno, vi ripeto, meno intensi e meno diffusi, così come i temporali che interesseranno la dorsale appenninica da quella settentrionale fino alla Lucania. Vedete che i temporali lungo le coste questa volta non ce ne sono, così come saranno poco probabili i temporali anche nelle zone interne delle due isole maggiori. Attenzione però che comunque questo nucleo temporalesco che vedete tra l'est della Lombardia e l'Emilia-Romagna interesserà questa zona a partire dalla mattinata. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno ancora una volta stazionarie e su valori per lo più compresi tra 26 e 31 gradi. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a consultare come al solito il nostro sito meteogiuliacci.it